Quasi 6 milioni di articoli contraffati e 59 persone denunciate. È l'esito di un blitz messo a segno dai militari della Guardia di Finanza in tutta la regione Puglia per prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione dell'abusivismo commerciale e di altre forme di illegalità. L'operazione ha registrato l'esecuzione di 152 interventi nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 5,8 milioni di articoli con la denuncia all'autorità giudiziaria di 59 persone. L'attività ispettiva ha evidenziato un'incidenza maggiore di irregolarità per alcune tipologie di prodotti quasi 2 milioni di articoli di elettronica, 1 milione di articoli nel settore dei beni di consumo e oltre 262 mila giocattoli risultati contraffati e dunque ritenuti dannosi per la sicurezza dei consumatori. Nel corso dei controlli militari delle fiamme gialle hanno utilizzato il portale SIAC Sistema Informativo Anticontraffazione, un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea ed affidato dal Ministero dell'Interno alla Guardia di Finanza la cui struttura operativa è stata dislocata proprio nella sede di Bari. Una piattaforma tecnologica che consente un'attività di analisi e controllo in tema di contrasto e lotta alla contraffazione realizzata mediante applicativi che assolvono funzioni informative per i consumatori di collaborazione tra le istituzioni e le aziende nonché di cooperazione tra gli attori istituzionali che consente alla Guardia di Finanza anche di estrapolare una serie di informazioni e dati statistici.